Buongiorno ragazzi, eccoci qua, allora come avete ben visto arrivano due nuovi acquisti, Ciciretti e Terranova Due acquisti importanti, giocatori che possono fare la differenza, spero che si faranno trovare pronti Ora toccherà vedere come arriveranno a Benevento e se il mister riterà opportuno portarseli già lunedì Penso che Terranova sicuramente ci sarà e spero che giocherà Ciciretti è stato un poco high box quindi bisognerà vedere in che condizioni lo troveranno Siamo fiduciosi, tifiamo la strega e godiamoci questo mandoio perché lunedì dobbiamo portare soli tre punti a casa Non ci sono altre storie e li porteremo tutti insieme a tifare al Ciro Vigorito